Lui con il papillon rosso e il capello fashion è il nonno d'Italia Prendo la mia telecamera e lo vado a trovare Ciao ragazzi di quelli che il 2000 mi trovo con vostro nonno Il nonno d'Italia Ciao a tutti, sono Enzo Vella, il nuovo nonno d'Italia al posto di Lino Bambi Ciao a tutti Lui è l'ideatore della festa dei nonni Infatti nel 2005 si fa promotore affinché venisse istituita la festa dei nonni a livello nazionale E dopo due anni di travaglio diventata legge di stato Ci facciamo due chiacchiere e poi saluta Tutti i nonni d'Italia, miei colleghi auguro di vivere a lungo con i nipotini E un saluto al festival delle generazioni Ciao, ciao, ciao Quelli che il 2000